Ben ritrovati cari amici da Stilorso, oggi vi parlerò di una penna che amo particolarmente, una penna che è con me da circa due anni, ma nonostante sia passato un po' di tempo, continuo a piacermi moltissimo e stiamo parlando, sto parlando, di questa bellissima Pinheider Avatar Ultra Resin nella colorazione a balone green. L'Ultra Resin, come forse sapete, è una miscela creata e studiata da Pinheider che combina resine plastiche e madreperla con lo scopo di formare appunto un materiale particolarmente resistente agli urti. Quindi Pinheider dice non vi preoccupate se questa penna cade, anche da altezze rilevanti non si rompe, quindi se cade dalla scrivania non si dovrebbe rompere. Io questo test non lo faccio perché la penna mi piace molto, però insomma dai, fidiamoci, facciamo questo atto di fede. Quali sono i dettagli che mi piacciono particolarmente di questa penna? Beh, innanzitutto la clip a forma di piuma, in omaggio alla piuma appunto uno dei primi strumenti di scrittura usati dall'uomo. E poi questa bellissima veretta con incisa la scritta Pinheider e lo skyline di Firenze, la città in cui è stata fondata Pinheider nel 1774 da un signore originario della Val Gardena che aprì un suo negozio, una sua bottega di belle arti in piazza della signoria, proprio in quell'anno lì. Non produceva ovviamente penne, le penne stereografiche non erano ancora state inventate, lui era un artista, uno scultore, uno stampatore. Solo più tardi, a partire dall'Ottocento, Pinheider iniziò a importare penne stereografiche dagli Stati Uniti e a farne anche una piccola produzione. Questa penna, come dicevamo, colorazione a balone green. Perché a balone? L'abalone è una piccola conchiglia, un bollusco, che vive, anzi forse dovremmo dire che viveva ormai a largo delle coste della California e del Messico. Ha l'istenzione perché? Perché esternamente non è un mollusco, la sua conchiglia non è particolarmente appariscente, ma internamente presenta questi bellissimi riflessi verdi, blu, che l'hanno resa e la rendono tuttora particolarmente appetibile dai pescatori. In California hanno bandito la pesca, questo mollusco, dal 1996, ma in Messico continuano imperterriti a pescarla. E quindi si tratta di una specie ormai a rischio estinzione. Questa penna è particolare perché? Perché tra molte cose da dire c'è quella, che hanno già detto in molti ovviamente, ma che è stata fatta senza usare colla, quindi tutta con incastri. Quindi un particolare applauso a Pinaider. Pinaider, come sapete, è stata rilanciata dalla famiglia Rovagnati nel 2016 che l'ha acquistata e due anni dopo vi ha messo a capo, come diciamo un po' supervisore e creatore, Dante Del Vecchio, che soprattutto negli Stati Uniti è considerato un po' una rock star, in quanto è stato cofondatore di Visconti, ma nel 2016 fu allontanato dalla stessa Visconti e dal 2018 a Pinaider. Una delle sue prime reazioni è questa Avatar. L'idea di Del Vecchio nel fare questa penna è dare, creare, una penna dall'aspetto comunque molto piacevole alla vista, una penna elegante, però un pochino alla portata di tutti, non a, diciamo, prezzi astronomici. Quindi una penna abbastanza abbordabile alla portata di tutti, che però rendesse omaggio al brand e con alcune chicche. Una, la principale, importata da Pinaider, appunto, che è quella della chiusura, che non è a vite o a semplice pressione, ma è magnetica con un bellissimo click. Guardate che meraviglia questa veretta, veramente veramente bella, così com'è bellissima la clip, molto molto bella. Lo so, vediamo un po' più da vicino il pennino, smontiamola e vediamo un po' com'è fatta. Ecco il pennino, un bock numero 6 con qualche incisione, con due scritte Pinaider sui due, sulle due lette laterali e il feeder. Impugnatura metallica, gioia e dolori. Perché gioia e dolori? Perché a molti non piace, però, però, è fatta bene. Perché? Perché non va dritta dall'inizio alla fine, ma è molto svasata. Cosa che permette una buona presa? Certamente, se siete abituati a tenere la penna qui, beh, non è il massimo, perché c'è lo scaino, ma se avete una presa un po' bassa, va bene, perché c'è questa svasatura che aiuta moltissimo la presa della penna. Però, adesso andiamo un pochino a smontarla. converter, proprietario, con la scritta Pinaider e la sezione, come vedete, ha un certo spessore. Non è una pennetta sottile, insomma, si vede che è una penna di sostanza fatta bene, dai. E quindi, vando alle ciance, andiamo a vedere come scrive su carta comune, comunissima, carta da fotocopia, quella che trovate dappertutto. Eccoci qua, Pinaider, avatar, ultra racing, pennino EF, con feedback, ma comunque molto molto piacevole da utilizzare. Inchiosto, Private Reserve. Inchiostro bellissimo, è il DC Super Show Blue. Inchiostro veramente, che vi consiglio, ad occhi chiusi. Come vedete, è un'extra fine di nome di fatto. Andiamo a vederlo su carta Pina Steel. Ottima continuità di flusso. È flessibile? No, decisamente no. Scrive rovesciato? Oddio. Sì, dai, ce la fa. Effetto unghie sulla lavagna. Però, scrive bene. Scrive bene. Questa carta è molto assorbente. È molto assorbente, per cui sembra che la penna non inchiostra, in realtà, inchiostra molto bene. E infine, andiamo a vederla su carta, su carta Rodia. Su carta Rodia, dà veramente il massimo. Il feedback è avvertibile, forse si sente anche nel video, ma è una penna guturiosa. Guardate l'inchiostro che dà. Ecco qui, su Rodia ci si rende conto di quanto è generosa questa penna. Comunque, nonostante sia un extra fine, dà, dà inchiostro. Quindi, è una penna consigliatissima. Consigliatissima, ragazzi. Lo so, volete vedere i pro e i contro? Adesso ci andiamo subito. Pro e contro. Pro e contro. Allora, il pro, decisamente, i materiali a me piacciono, che vi devo dire. Questa, ultra resin, è bella esteticamente, è d'effetto, è piacevole. Il contro. Sezione metallica. Ma credetemi, dategli una possibilità, perché c'è comunque questa svasatura che permette di impugnarla veramente bene. Il pro, quale potrebbe essere un altro pro? Beh, la clip bellissima. A mio avviso, clip bellissima. E poi, cosa più importante di tutto, il pennino. Veramente ottimo. Veramente ottimo. Forse sono stato fortunato io, o forse sono bravi loro ad averlo, in qualche modo, sistemato. Non lo sapremo mai. Comunque, la penna scrive ottimamente. Un altro pro è il servizio clienti. Ho avuto a che fare con il servizio clienti PNIDER. Non per questa penna, per un'altra penna. Ne parleremo in un prossimo video, che non sarà il prossimo dal punto di vista temporale. Ma renderemo merito al servizio di clienti di PNIDER, che è veramente lodevole. Quindi, comprate una penna e poi sapete che non restate così, senza assistenza. No. PNIDER, sappiate che se li iscrivete, vi risponde e vi dà un aiuto. Un altro pro, un contro. Mettiamoci un contro. È difficile per me trovare dei contro a questa penna. Sono sincero. Cosa potremmo dire? Il costo, forse, il costo a prezzo pieno. Anche se, anche se, è perfettamente allineata ad altre penne italiane cartridge converter. Quindi, alla fine, non c'è troppo da scandalizzarsi. Perché anche Leonardo sta in quella fascia di prezzo lì. Sta nella fascia di prezzo di Leonardo. Distipula di Aurora. Anzi, insomma, forse Aurora in alcuni casi può essere anche un po' più costosa. Non lo so. Però, è una penna importante. Perché non abbiamo visto le dimensioni. Ma, eccoci qua. Guardate qua. Questo è un foglio A5. Guardatela in confronto con la Lami Safari. È più grande di una Lami Safari. È più grande di una Lami Safari. Quindi non è una penna piccola. Guardiamola in confronto con una Platinum 3776. È più grande anche di una Platinum 3776. Cosa abbiamo detto? La consiglio, sì. Il bilanciamento non abbiamo parlato. Ecco, il bilanciamento... Allora, se avete mani grandi come le mie, un po' delle spatole, Potete usarla anche così. Eh, non c'è problema. Certo, il cappuccio la sbilancia un po' all'indietro. Però, vabbè, dai, si può usare. Se avete mani un po' più aggraziate da usare così, Rimano una penna comunque lunga, non piccola. E di grande effetto. Quindi pro, diciamo, di grande effetto. Di grande effetto. Contro. Non me ne vengono, non me ne vengono altri. Se voi ne avete, ditemi. Magari, mi scrivete. Guardate, stessi d'orso. Io ho questa penna. Non mi piace il cappuccio. Non mi piace la veretta. Non mi piace la clip. Non mi piace... Ditemelo. Magari avete ragione voi. Per il resto, che altro aggiungere? Spero che il video vi sia piaciuto. Spero di non avervi annoiato. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Anche se il video mi ha fatto schifo, iscrivetevi lo stesso al canale, dai. Alla fine, dove l'ho trovato uno che fa i video con l'accento del gabipo. Va bene. Grazie a tutti. Un abbraccio da Stile Orso. Ci vediamo alla prossima.